Dalla lettera di San Paolo Apostolo e gli Efesini Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, ha sceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che cosa significa che ha scese, se non che prima era disceso qua giù, sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ha scese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina l'errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a Lui, che è il Capo, Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, cresci in modo da edificare se stesso nella carità. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero, andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle Tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù, le tribù del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore, là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andremo con gioia alla casa del Signore. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo «Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno». Ma quello gli rispose «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché li avrò zappato attorno e avrò messo i concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire. Se no, lo taglierai». Grazie. 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 Grazie.